ciao a tutti e bentornati allora ieri è stata una giornata molto impegnativa per la nostra dama che si è prodotta in diverse live tutte contropatti e una determinata categoria di persone che hanno gusti sessuali diversi dal suo modo di concepire il sesso vedute che qualcuno potrebbe addirittura definire limitate beh abbastanza ma procediamo con ordine la prima live della dama parte come live in difesa nei confronti di ali che a quanto pare è stata tirata in causa da patti e messa in discussione la sua ipovedenza i toni di risposta della dama sono stati fin da subito abbastanza accesi arrivando a dare a patti della checca esterica e della poco attraente argomentazioni molto elevate che sono conseguenza di lunghi processi di ragionamento insomma ma pensate come siamo messi qua continuiamo va sempre in questa live la dama invita patti a portare le prove che attestino la sua tra virgolette villeggiatura a rebibbia e che sirio non sia realmente morta poi cosa dice la dama dice patti io vorrei farti provare la mia condizione col frigo vuoto senza assicurazione senza sigarette ah no quelle ce l'ha vabbè ma lei non è mica come il contabile che si fa mandare stecche 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 di sigarette lei non è mica come eva che si fa comprare il computer dicendo che per il figlio invece poi lo usa lei non è mica come chiara che va un giorno sì e l'altro pure a fare la spesa c'è però da aggiungere che di tutte queste bellissime live di dama non è stata patti l'unica protagonista ha trovato modo di tirarci in mezzo chiara davide eva il contabile osservatore addirittura critiche costruttive non dimenticando di citare nella lista anche padre caras e la dama bianca che a seguito di un lungo e attento esame da parte della dama nera ha riscontrato ha ipotizzato che questi due personaggi con molta probabilità sono due omosessuali che passano l'intera giornata a scandagliare secondo per secondo ogni suo contenuto per poi andare a modificare varie parti ripubblicarle e farla apparire come una cattiva persona quale non è e io vorrei rispondere a quelle persone che mi dicono ma com'è che non si riesce mai a fare un riassuntone serie beh ma con questo materiale come si fa essere seri ma ci rendiamo conto ecco ma adesso gettiamo via tutto il buon senso e continuiamo ad ascoltare questa live perché nel frattempo che dama sta in vendo contro patti alcuni utenti scrivono in chat che patti ha lasciato nella sua community dei commenti squallidi ora io onestamente si commenti non li ho letti quindi per distrigare sta matassa direi di andare a leggere sti commenti che ne dite ebbe il primo commento che patti dedica a calogero giordano recita così ma stai ancora a chiedere soldi su youtube tu apriti only fans almeno te li guadagni onestamente senza dover fingere la morte delle tue utenti per impietosire i truffa e gli iscritti e oltre a questo commento scritto e dedicato a calogero non ci sono altri post con il tag dama o calogero ma sono per lo più tutti i post dedicati al canale di analcoliche o antisocial e quindi mi viene da pensare che patti abbia capito di aver lasciato dei commenti dei post abbastanza pesantucci e le abbia rimossi ma le live di dama contro patti continuano e il tenore dei discorsi è sempre lo stesso quindi io direi cambiamo personaggio e andiamo a parlare di giuseppo lotrop che ieri ha trasmesso due brevi live in cui si riprendeva nel mentre che era passeggio per milano city e racconta di una condizione che non lo fa vivere serenamente ma che ha voglia di riprendere le redini di quella che è la sua vita tanto da aver iniziato una nuova frequentazione con una donna che gli trasmette tanta sincerità ed onestà e quindi tanti auguri al nostro giuseppolo nel frattempo in quel di milano il nostro davidone ha trasmesso una live dal titolo racconti piccanti ora in tutta sincerità io sta live non l'ho ascoltata quindi non ho idea di cosa abbia mai potuto raccontare però sotto la live ci sono ben tre commenti il primo dice ma che professore hai avuto il secondo dice come sei passata da adolescente vivace a reclusa in casa il terzo ed ultimo commento dice è il nostro nuovo garibaldi oddio sono commenti che non lasciano trasparire un significato che porti a a capire cosa è successo in questa live ma onestamente chi se ne frega mentre nel canale di chiara l'ultimo video che è stato caricato è un leggerissimo mukbang con salsiccia cipolle e peperoni mentre di live praticamente non ne trasmette da oltre tre giorni e anzi se avete notato ultimamente stanno tendendo a caricare più video e live nel canale di coppia perché anche quello è monetizzato piuttosto che qualcuno dice che qualcosa bolla in pentola e beh sì effettivamente c'è un ricambio più generoso di contenuti in quello che al momento si chiama il canale di davide norimberti ex chiara e davide channel dopo tutto cosa può fare una povera ragazza se le live buassa non rendono più per il resto insomma c'è calma piatta questo è un po il periodo in cui tanti youtuber propongono video in cui comprano e aprono le uova di pasqua sono dei video un pochino noiosi perché visto uno è come se li avessi visti tutti un altro personaggio che sta riscuotendo buoni consensi sebbene abbia iniziato da poco a trasmettere live è cassandra k che dedica parte del suo tempo a sbugiardare le incoerenze espresse da fate nel corso delle sue live ma non disdegna neanche il difendersi dagli attacchi che riceve in merito al fatto che lei sembra che tenda a denunciare con estrema facilità allora io questo personaggio lo conosco relativamente poco ma mi piace molto il modo in cui espone le sue ragioni con toni pacati e soprattutto portando quelle che sono le prove di quello che sta dicendo in quel momento questo è un qualcosa che trovo estremamente apprezzabile anche perché ci hanno abituato in questi ultimi anni che chiunque può aprire una live e andare a diffamare riportare cose che magari non esistono assolutamente però senza un minimo di prova stanno lì ad affermare situazioni comportamenti vite private che è un qualcosa di veramente molto molto squallido poi appunto ieri un utente mi faceva notare che il video della notte degli oscar promosso da osso tarda ad arrivare dato che in tanti hanno già votato si aspettavano poi comunque le nomination ed effettivamente sono trascorse già due settimane da quando ha caricato il video in cui promuoveva questo evento il nostro fabrizio ma cosa sarà successo sicuramente sente la primavera si sarà innamorato e le nomination qui buonanotte al secchio però ho visto adesso che l'ultimo post in community risale a 22 ore fa in cui dice spesso mi sono vergognato di far parte del genere umano un mondo in molti casi privo di empatia e solidarietà e dove la cattiveria e l'ignoranza regnano sovrani ma mai come oggi nonostante gli episodi spiacevoli vissuti sulla mia pelle da parte di questa persona mi sono vergognato di far parte del genere umano il motivo assistere stamattina a due live della signora tra virgolette di soriano dove ancora una volta ha espresso tutta la sua violenza verbale verso noi omosessuali e verso le persone transessuali insultando e facendo omotransfobia verso una persona che può essere criticabile quanto sia ma ciò non dà il diritto a nessuno di dire chi siamo noi su questa terra con offese e derisioni perché non si sa come attaccare una persona purtroppo questa signora avendo una vita misera vuota e priva di affetto cerca in tutti i modi di infangare con menzogne chiunque ha deciso di cambiare la propria vita migliorarla o semplicemente abbia deciso ad un certo punto di volere essere felice signora di soriano lei sui documenti avrà come sesso scritto femminile ma di donna non ha veramente un bel nulla quindi meglio essere delle checche come ci definisce lei noi gay piuttosto che essere una persona repressa insoddisfatta e infelice come lo è lei ma soprattutto inguaiata con questo post chiedo a tutti voi gentilmente di mettere un attimo da parte l'astio o l'antipatia che avete verso patti e segnalate la live di stamattina della signora di soriano per violenza e cyberbullismo affinché questi messaggi di odio che la signora lancia che non sono solamente indirizzati verso pat non vengano ascoltati da nessuno grazie decisamente un accorato appello da parte del nostro fabrizio os che comunque è stato tirato in ballo anche lui nelle nel corso delle tante live trasmesse ieri e ci ha tenuto a dire quello che era il suo parere in merito espresso come suo solito in toni pacati e soprattutto con estrema educazione bene detto questo io adesso vi saluto vi auguro buona continuazione di giornata ci ritroviamo presto con un nuovo contenuto ma nel frattempo che succede tutto questo un bacio a tutti da gossip